. Sono molto felice se la risposta è sì. E qual è il tuo segno oggi? Oggi è lunedì 16 agosto 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Ariete. Ferragosto di fuoco? Si fa per dire. Ferragosto di fuoco, anziché mezzogiorno, a promettervelo il sole in leone, segno amico e sempre propositivo in fatto di caldi sentimenti, divertimenti, allegria. A fargli da contrapunto giove, appunto nel settore delle amicizie, quelle che incontri in vacanza e che a volte si salutano nel giro di poche settimane, ma potrebbero anche incunearsi nella vostra vita e rimanerci per sempre. vita sociale dunque in primo piano, anche se di fatto a parte il calore del cuore non si evidenziano altre importanti novità. . 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 Segnia a spignattare in attesa degli amici che vi verranno a trovare, pronti a infilare le gambe sotto al tavolo. Così piace a venere salutista e ambientalista in seconda casa, anche animalista naturalmente, fa testo il numero di cani e gatti che si rincorre aspettando la pioggia di bocconcini. Amore ed eros, rapporto caldo e amichevole, nel vostro cuore c'è posto per tutti, partner, figli e amici che abbracciate con calore. Senza nemmeno chiedere il green pass. Affetto speciale per il quattro zampe seduto al centro del vostro cuore, come il cane bianco di Franz Marco o i suoi meravigliosi gatti gialli e blu. In amore cercate di ritrovare la pace di cui avete bisogno in questo periodo. Ci sono state alcune burrasche, ma ormai appartengono a tempi lontani. Sta a voi essere propositivi per raggiungere la felicità. Vi ritagliate momenti di tenera intimità con la persona che avete scelto di avere accanto e contribuite così a creare una serata che sarà davvero memorabile. Il vostro amore per il lusso vi spinge a trovare accorgimenti che facciano risaltare la cura dei dettagli, le scelte azzeccati nel creare la cornice appropriata all'incontro. Se siete single, è un luminoso giove acquario, se vi trovate in un luogo diverso da quello abituale magari perché siete in vacanza, a prospettarvi incontri dinamici abbastanza strepitosi, specialmente, però se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 20 di aprile. Lavoro e denaro Tanto che basta per non far insospettire nessuno. Ciò che vi preme evidentemente sono altre questioni e ritenete giusto lasciare spazio ad esse. Da bravo segno di fuoco quale voi siete governato dal sole, non vi manca la volontà di mostrare una vostra eccellenza negli sport di tutti i tipi. In particolare, data la centralità che assegnate al vostro io, gli sport individuali, come ad esempio l'atletica leggera. Bene essere, sani e belli, in ottima forma grazie all'attività sportiva costante, perciò anche se oggi straviziate un po' il fisico non ne risente. Piedi da coccolare dopo un'escursione particolarmente faticosa, con gel alla menta o alla calendula. Gradiranno almeno quanto voi gradite una coppa di gelato presi da troppi pensieri che riguardano voi e le persone a cui volete bene, siete più sbadati e distratti del solito. Quindi fate attenzione a come vi muovete e non perdete d'occhio gli oggetti di valore. Per lei, la gioia del vostro quattro zampe è proprio sgambettarvi dietro ovunque vi troviate qualsiasi cosa stiate facendo. Il picnic sull'erba sarà una pacchia per lui, il rischio è che infili il muso nella cesta. E allora il buon appetito sarà soltanto per lui. Per lui, un calcio al ferragosto tradizionale, con la famiglia riunita al ristorante, primo costa troppo, secondo c'è il problema del Grand Pass, terzo quando c'è troppa gente si mangia male. E allora che aspettate a indossare il Grimbiule e a mettervi ai fornelli a casa vostra? Colore delle emozioni, verde mela. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9. Finanze, 7, benessere, 9. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo! Grazie per aver guardato i miei video! Grazie a tutti.